E' tornata la paura la notte scorsa tra i comuni dell'Alta Valle Aterno che hanno registrato tre nuove scosse. La più forte di magnitudo 3.3 registrata alle 4.24 in località Busci ha spinto molte persone, tra quelli che non dormono già in roulotte, macchina o in una casetta di legno, ad uscire per strada. Altre due scosse di magnitudo 2.2 e 2.1 sono state registrate rispettivamente alle 6.53 e alle 7.04, sempre nel distretto dei Monti Reatini. A decine le persone che si sono rivolte i quattro presidi allestiti dalla protezione civile della regione Abruzzo nei comuni di Cagnano-Miterno, Capitignano, Monte Reale e Campotosto, tutti in provincia dell'Aquila. A Cagnano-Miterno si opera per allestire almeno tre o quattro tende in grado di ospitare persone in via precauzionale. In tanti anche gli utenti che si sono riversati su Facebook per confrontarsi su come sono state percepite le scosse. Intanto il sindaco del capoluogo Massimo Cialente ha reso noto che può chiedere il mantenimento del contributo di autonoma sistemazione chi, avendo lo stabile domicilio all'Aquila il 6 aprile 2009 e avendo poi scelto una dimora temporanea al di fuori dell'Aquila, dal 31 agosto scorso perdeva questo beneficio secondo quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio numero 3870. Oltre a tornare stabilmente all'Aquila non dovranno ricorrere altre condizioni che comportino l'accessazione del contributo. Inoltre la famiglia che si ristabilisce all'Aquila non dovrà avere altre abitazioni agibili e idonee nell'ambito di mobilità urbana, ovvero nei territori comunali indicati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sarà sufficiente presentare negli uffici di via Rocco Carabba un'autodichiarazione con cui, oltre alle generalità, si dovrà attestare il ritorno nel territorio comunale dell'Aquila. La data in cui ciò è avvenuto è l'indirizzo della nuova dimora temporanea, chiedendo dunque il ripristino del contributo di autonoma sistemazione.